La scelta e la ricerca dei nostri gioiellieri che da anni e da generazioni investono nel settore. Quindi una selezionata ricerca di oggetti nelle teche di questo chiostro, nella città dell'oro, in un appuntamento così importante come quello della Fiera dell'Antiquariato, il consolidare di queste edizioni, questi appuntamenti che sono sempre molto frequentati e molto apprezzati, è davvero una bella cosa, credo che sarà assolutamente un'abitudine da conservare e da preservare. Torna a collogarsi di riflessi d'oro alla Fiera Antiquaria di Arezzo che in occasione della prima edizione primaverile, sabato e domenica prossimi, ospiterà nel cuore del suo percorso gioiello in vetrina, la mostra Mercato di Preziosi ideata dalla Conf Commercio Aretina assieme a Feder Preziosi. Il nostro scopo è quello di presentare il gioiello in una veste diversa, uscire fuori dai nostri negozi è stata la priorità. Tenete conto che girando per l'Italia mi sono accorto che questo tipo di iniziativa verrà replicata perché è veramente interessante per un gioielliere raccontarsi al di fuori del proprio esercizio commerciale. Una mostra in collaborazione con la biblioteca, tanto è che nelle 12 teche ci sono anche testi antichi. In queste teche ho un po' riassunto il concetto che vuole proporre gioiello in vetrina, cioè ogni operatore del settore cerca di esporre gioielli particolari con particolari pregi e particolare manufattura. In questo caso c'è un binomio molto azzeccato fra il gioiello e i libri d'arte, quindi i libri antichi. La biblioteca, come in molte altre situazioni, è a disposizione della città. Il libro è, come dire, elemento essenziale del patrimonio della biblioteca e quindi è stata creata questa liaison fra gioiello e libro antico. Quelli che ho portato stamattina sono dei manoscritti sia fatti nel 1400 sia stampati durante il XV secolo. Per cui sono dei testi unici che riportano all'interno anche delle miniature in oro appunto proprio per far unire ancora di più e dare il connubio con i gioielli che sono esposti questa mattina.